I BTP, acronimo di Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli di Stato emessi dal Tesoro Italiano. Si tratta di strumenti finanziari a lungo termine che hanno scadenze variabili, generalmente da 3 a 30 anni. Gli investitori che acquistano BTP ricevono interessi periodici, noti come cedole, e alla scadenza del titolo il valore nominale. I BTP sono considerati investimenti sicuri poiché sono garantiti dal governo italiano. Sono utilizzati per finanziare il debito pubblico italiano e coprire il fabbisogno di cassa del tesoro. I BTP vengono emessi tramite aste regolari e sono negoziati sul mercato secondario. Sono un componente importante dei mercati obbligazionari italiani.